Il boss sta ballando, giovane! Molte volte ve li trovate proprio Ah 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 ah! Come i talascioni Giovinastri! Questi nascono come margherite Awe! Siete arrivati alla vostra destinazione Eccovi serviti Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Scatto dell'orda Sono riuscito a completare quasi tutte le sfide Sono a 6 di 7 E sto facendo questo video sia perché Devo cercare di fare questi 200.000 punti Cioè con l'ente era arrivato a 140.000 punti Purtroppo stava il boss finale Mancavano gli ultimi 60.000 punti per completare la sfida Completamente Cioè per completarle tutte le sfide E quindi al 100% Vabbè lo farò in questo video Non avevo organizzato di farne un altro di video Però vabbè Ma sì Per i dorsi decorativi ho messo casuale Cos'è almeno Ogni partita ne esce uno nuovo Quindi rimettiamo anche i picconi casuali Però voglio tenermi Bello sì eh Al bacio Ah anche questo Ok Mettiamo quasi tutto casuale Dico quasi tutto perché le emot Voglio rimanere quelle che stanno Poi la skin Voglio tenermi quella Ok entriamo in partita E facciamo la nostra prima partita di oggi No vabbè Se avete capito Che dorso decorativo è quello È stato per un evento Ah peccato Comunque Era quello del compleanno Di Fortnite E quindi Ce la farò Oggi A completare L'ultima partita Se magari ti levi Niente questo mi sta sempre in mezzo Mi raccomando ragazzi Non deludetemi Sono finito dentro la vasca Vabbè Fin qua non siamo finiti in accesso Tutto va bene Se riuscissi a trovare Un fucile D'assalto Sarebbe bellissimo Dovrei provare a vedere Lì Come non detto va Ok next Iniziamo a fare Baldoria Oh cavolo Comunque una cosa Buonissima Per fare Tanti punti Ovviamente Per riuscire a colpirli Alla testa Oh Buongiorno Molte volte Ve li trovate Proprio Come i talascioni Oh E vabbè Sì Pigliate Ma ammazzate Tutti quanti Cavolo Carica Pa Oh Quale in pieno Ecco i serviti Basta Le porte le abbiamo comprate Dall'IKEA Oh Buono Ah Cavolo Spara Oh cavolo Ok adesso Dobbiamo seguire La tempesta Comunque ho scoperto Una cosa Io pensavo che Quelli veleno Si perdì Perché hai chiuso Ma sei scemo Esplodessero Quando Vi avvicinavate Troppo E invece no Quelli esplodono Quando voi Li sparate Quando li uccidete Oh Cavolo Quando dovete Seguire La tempesta E' complicato Proprio per il fatto Che ci sono Le montagne Di mezzo E più di una volta Mi è capitato Di rimanere Bloccato Diciamo così In qualche montagna E non riuscire Oh A Salirla Molte volte Perché Gli stupidi Dei compagni Sono veramente stupidi E vi bloccano Già loro Come dire Non sono Solo i mostri A bloccarvi Ma anche i compagni Vi bloccano E questo E' brutto A quanto stiamo? E' 20.000 punti Si può dire che non siamo Neanche Alla metà Di quanto dovremmo essere Per arrivare a 200.000 punti Totali Ce ne vuole Oh No Maledetti Mi hanno bloccato Va bene Esplodete Oh Quello dorato No Togliti No Vabbè Dai però Che peccato che sono caduto Perché sarei riuscito a resistere Ecco cosa intendevo io Quando i mostri Vi bloccano O vi accerchiano Oppure vi mettero Con le spalle Al muro E quindi vi trovate i mostri E il muro Voi come fate ad andarvene? Non riuscite Anche se saltate Ma non ci riuscite E vabbè Che figura meschina Oh Mocca voi Veramente E vabbè Grazie Quanto posso odiarli Oh Questi qua che vi ghiacciano E la madonna Che cosa che si è formato qui Beccatevi questo Oh No Quello che ho ghiacciato Eh Ti pareva Ma male che sono riuscito a resistere qui E questo Si era bloccato Tu nella fontana Eh Che a parte Fa una bella lavata Ma no Il boss sta ballando Oh cavoli Vittoria Ma quanti punti abbiamo fatto? Vabbè Io ne ho fatti veramente pochissimi Cioè le altre volte Non ho mai fatto così pochi punti Totale 61.000 punti Ma che schifo Non ho mai fatto così pochi punti Veramente Vabbè Vabbè facciamo un'altra partita Sperando di andare meglio Perché veramente Stavolta Cioè Non ho fatto veramente pochissimo Abbiamo il piccone Di marshmallow Oh cavolo Ok Ok fatemi assolutamente Prendere questo Se non sbaglio Ci sono altri punti Ok Ci sono altri punti No No Giovane E giovanotti Ma guardate un po' quanti ce ne sono qua Uff Beh a un certo punto me la sono vista brutta ma Vabbè Pronti a salire? Ma se ne va di qua Ah e là ce ne sono Ah cavolo Grazie Oh oh Questa mi farà comodo Cavoli Ah cavolo Tempesta è quella roba Non fa per niente bene No il mio R Che ne ce lo se lo prenda Questi nascono come margherite Cioè spuntano Cavolo Ah 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 tieniti questa eh? cosa? è vero perché quelli sono quelli esplosivi ci conviene andare veloci qui sopra attenzione a non farvi colpire da quelli ghiacciati e se no sono cavoli amari che vanno a cadere giù tipo questo forza amici ce la possiamo fare questo è quello forte quello dorato simon stati bene ah qua un macello no cavolo cavolo via ah c'ho pochissima vita oh cavolo oh cavolo oh cavolo oh ok non era necessario ma vabbè è che c'ho veramente pochissima vita devo recuperare buongiorno oh grazie questo mi serviva proprio un altro si vabbè raga stiamo esagerando però fino agli altre volte non ce n'erano così tanti cavolo 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 devo stare attento no 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 state buoni buoni no 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 oddio guardati guardate quanti ce ne sono sono tutti morti intendo i miei compagni c'è pure quello dorato ok sono riuscito a resistere raga giuro me la so vista brutta da essere quello veramente inguaiato alla fine eeeh che è qui la combricola adios gallinelle ok uno l'ha ucciso quanti punti abbiamo fatto probabilmente siamo arrivati a 100.000 ma per quel che serve a me ma la fanghup eeeh 89.000 davvero pochissimo però c'è anche zuccherino che ci farà compagnia abbiamo anche un piede di porco ah bene vogliamo veramente provarci proviamoci ragazzi proviamo a fare questa partita da soli ma della verità stavo pensando voglio provare a fare di nuovo una partita da solo oppure la faccio insieme agli altri no vabbè la faccio insieme agli altri non ho voglia di farla da solo perché almeno insieme agli altri faccio più punti e invece no e questo da dietro ah brutto ma scalzone ah questi io ve lo dico non vi assicuro niente siamo in due sì potremmo farcela con la buona pazienza comunque ho letto che questa modalità come se non la stanno prendendo proprio bene alcuni giocatori questo come sempre ci sono sempre quelli che a chi piace e a chi non piace voilà dobbiamo seguire la tempesta e scommetto che ci sarà qualche montagna a darci fastidio cioè che ci darà fastidio attenzione voi giovinastri dovreste starvi fermi attenzione giovane lo sapevo io dobbiamo salire attenzione dove vai ma perché stai dentro la tempesta giovane ecco è stato ucciso ok dov'è quello si capisce lì c'è uno scar se riuscissi a prenderlo ma non devi fare quello oh via 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 eccolo maledetta te oh maledetta te maledetta te mio dio cosa avevo rischiato ah ti sei buggato eh meglio così ben ti sta il problema è questo che se rompo l'albero poi stati bene poi non è più buggato siamo a 50.000 punti non è per niente male come punteggio per essere in due abbiamo vinto ma quanto abbiamo fatto di punteggio veramente poco oddio io ne ho fatto un bel po' 40.000 50.000 punti non penso che me lo calcoli boh non lo so provo a fare un'altra partita magari con altri giocatori basta che non se ne vanno così a meno boh cerchiamo di fare questi punti questi 200.000 punti magari grazie quanto ci volete scommettare che dobbiamo salire lo sapevo io dobbiamo salire non è vero non dobbiamo salire come non detto si vabbè come facciamo a prenderlo da lì veloce 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 Ah, capolò Comunque la mitraglietta ve la consiglio Estremamente Sto pure per esplodere E' buonissima in queste situazioni Ok raga fino ad ora sta andando benissimo Siamo a 78.000 punti Veloce Macello Oh mio dio che divertente E' morto qualcuno? Non credo Non è così difficile Oh cavolo Oh mio dio Raga si Oh Buoni Buono 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 No 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 Non posso morire Porca miseria Oh No se quello mi da un colpo Ma qualsiasi No 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 Fermo lì Porca miseria Porca miseriaccia ladra No Cavolo 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 Mio dio raga Me la so vista brutta Ma veramente brutta Ok adesso copia manetta Perché con la mitraglietta Con il fucile d'assalto Non sono messo affatto bene Anzi sto messo malissimo Lì c'è qualcosa di meglio Ehm Oh Oh buono No fermati Oh Dovevo fare veloce raga Sì 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 Grande Mi trovavo sempre fuori dalla tempesta Perché mi avevano ghiacciato i piedi Ma vabbè 50.200 punti È il mio record Però Non siamo riusciti a fare ciò che volevo io Che vi trovate Stava così E infatti non me l'ha dato Proviamo a farne un'altra così L'ultima però Perché Sto video sta già durando un bel po' Ogni partita dura 20 minuti Almeno Comunque C'ho il microfono Quello che piace tantissimo a me Come piccone Fatto sta che c'ho Il dorso decorativo Quello di Natale Ci azzecca niente Ma vabbè Sti cusi di grano Danno Veramente pochissima legna Vabbè Sono diventato un contadino Un contadino Che utilizza Il microfono Per prendere il grano Non la falce Giovani Beh Quella pizze Raga Oh Buoni Ah wey Beviti subito sta pozione Mamma mia Oh E vi mettete proprio in coda A voi Che poi non per dire Ma io sono l'unico Che ci pensa A ste robe C'è Dentro la piantina Dai Forza Che gli facciamo 200.000 punti Voilà Si è formata la coda Giovane Giovinastri Comunque non ci avevo pensato Ma in effetti La Deagle E' buonissima Perché fa 100 Danno Nel caso del boss Finale Ma anche in generale Farebbe veramente Un lavoretto Non da poco Aspetta un attimo Che prendo questa Alibaba A me Cavolo C'è il boss Carica Comunque se andiamo avanti così Ce la facciamo E sali Grazie mille Complimenti Ma vedrà Piccacus Quello che ha fatto Si è fatta una bella zompata Siete arrivati alla vostra Destinazione Grazie Vabbè io non ho bisogno Di altre armi Queste mi bastano Ok boss Boss finale Ah ecco chi cacchio Cantava Mi sa che non abbiamo fatto 200.000 punti Con la musica di sottofondo Di questo pesce Cavolo E' perché poi alla fine Vadano tutti al boss Finale Ma sapete il problema Qual è Che in effetti Se si rimane troppo Tempo Poi Si rischia Che la Tempesta Si restringe E' a quel punto Boss finale Mostri in generale C'è Diventa un macello Morite Sicuro Vabbè Che vi devo dire Il video è durato Un bel po' Un'ora e mezza Portami Serio Dopo Che farò L'ontro Vi metterò Magari una clip Dove sarò Riuscito Finalmente A raggiungere 200.000 punti E a completare La sfida Spero che questo video Vi sia piaciuto Se questo è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non è ancora fatto Buonanotte ragazzi Oh Buonanotte Buongiorno Quello che è La mia Oltro È diventata Un po' Indecisa Perché Sapete qual è il bello Per quale motivo Io dico Buonanotte Perché Io sono Abituato Alle volte Che quando mi trovano I guai Allora dico Ehi Buonanotte E allora Mi è venuto Un pizzico Così Un'idea Così Spavillante Però Perché poi dico Oh buongiorno Perché ovviamente Io i video Li mando Alle 12 O ad ogni modo Se non è alle 12 Comunque Li mando Alle 5 Di pomeriggio Quelli sono i miei orari E quindi dico Scusa ma Se l'ho mandato Alle 12 Quindi mattina Alla fine Quasi mezzogiorno A che serve Vuoi dire Buonanotte